Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti nel canale di notizie dell'Inter, oggi vi portiamo un'importante notizia sulla possibile partenza di Joachim Correa nel prossimo calciomercato estivo. L'argentino ha ancora un futuro all'Inter o è ora di voltare pagina? Scopriamolo insieme, iscriviti già al canale e attiva la campanella delle notifiche, così sarai avvisato ogni volta che escono nuove notizie sull'Inter qui, andiamo. Joachim Correa, talentuoso attaccante dell'Inter di Simone Inzaghi, potrebbe essere in uscita nel prossimo mercato estivo. Le ultime notizie dal campionato italiano di Serie A sottolineano che l'argentino non sia ancora del tutto adattato alla squadra nerazzurra e potrebbe essere aperto a nuove sfide. Da quando è arrivato all'Inter, Correa non è ancora riuscito a mostrare tutto il suo potenziale, cosa che ha lasciato i tifosi scoraggiati. Ma questo non significa che non sia un giocatore di qualità. La scorsa stagione ha fatto un ottimo lavoro al Verona, segnando due gol decisivi che hanno aiutato la squadra a vincere. A causa degli infortuni in questa stagione, l'attaccante è stato limitato nelle sue prestazioni e i tifosi di San Siro hanno mostrato la loro insoddisfazione per la sua prestazione. Dunque, nel calcio mercato della prossima estate, potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi in un altro club di Serie A. Ehi, se sei un vero appassionato dell'Inter, e non vuoi perderti nulla di quello che succede in nerazzurro, allora lascia il tuo like per rimanere aggiornato sulle news quotidiane dell'Inter. Continuando. E una squadra che potrebbe essere interessata a Correa è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra viola è alla ricerca di giocatori che possano aiutarla a fare un salto di qualità e, dopo una grande prestazione in Conference League, sembra pronta ad investire su un secondo attaccante di qualità. Nonostante la dirigenza nerazzurra non sia troppo entusiasta dell'idea del prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina è disposta a sborsare circa 20 a 25 milioni di euro per avere l'argentino in rosa. Credi che Joaquim Correa possa ancora adattarsi e mostrare tutto il suo potenziale nella squadra o pensi che sia giunto il momento per lui di voltare pagina? E cosa ne pensa della possibile proposta della Fiorentina per un prestito con diritto di riscatto per l'argentino? Lascia la tua opinione nei commenti, lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per continuare a ricevere qui le notizie aggiornate sull'Inter, fino alla prossima volta, tifosi nerazzurri.